Entro due settimane una relazione sulla presenza di insediamenti rom sinti e camminanti. Queste le parole che avrebbe detto il ministro dell'interno Matteo Salveni in una circolare inviata da diversi prefetti italiani. L'obiettivo sarebbe quello di avere un quadro piuttosto chiaro sui campi abusivi per andare a predisporre un piano di sgomberi. Nella circolare il ministro sottolinea la necessità, quindi il bisogno di porre l'attenzione sulle situazioni di legalità e di degrado che di frequente si vanno a registrare negli insediamenti. Soprattutto quelli abusivi che spesso vanno a configurare un pericolo piuttosto concreto per l'ordine e la sicurezza pubblica. Con l'obiettivo quello di andare ad adottare misure che vanno a essere messe in campo per dare una riaffermazione a quella che è la legalità. Non solo quindi al concetto in questione ma anche alla parola legalità vista, quindi intesa come parola a sé stante ma che si va a unire a quello che c'è da mettere, da apporre. Bene, vi ringrazio per l'ascolto. Probabilmente questa è una delle norme che può essere detta come norme importanti che farebbe parte del pacchetto si presa. Grazie a voi utenti di Youtube, Salvini ha ragione, questo è il mio parere, questo è il mio pensiero. Saluto i cari ancora a voi e al prossimo video da Aleandro, narratore italiano.